ora si registrerà la conferenza come come preferisci tu era che non volevo poi farti correre no 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 ripeto io non posso andare oltre le dieci e mezza poi ce n'è tempo la conferenza come allora buongiorno a tutti benvenuti grazie per insomma per essere presenti a questo geobreak che insomma ammetto in gter cercavamo e speravamo da da tanto tempo poi forse così un po non osavo chiedere ma alla fine mi sono decisa oggi infatti con noi abbiamo salvatore fiandaca per molti dei presenti probabilmente è un nome più che conosciuto ma appunto salvatore è uno sicuramente dei membri più più attivi di di cugis italia membro di open data sicilia ovviamente socio gfos e membro anche della cugis organization insomma quindi indubbiamente una una figura che che per cugis e il gis in generale fa fa sicuramente molto oggi ci parlerà insomma un po del suo cavallo di battaglia chiamiamolo così nel senso che è indubbiamente una delle figure che in ambito field calculator di cugis almeno per per mia stessa esperienza diciamo è indubbiamente una delle figure più più esperte più più preparate su questo strumento che anche per chi come me magari lavora con cugis da da tanto tempo e praticamente tutti i giorni continua ad avere un po le sue zone di ombra quindi siamo felici di avere con noi salvatore che appunto condividerà con noi insomma parte delle sue conoscenze e competenze quindi lascio subitissimo la parola a lui e ci sentiamo poi più tardi per magari un po di domande un po di così esperienze reciproche prego salvatore grazie roberta mi sentite sì benissimo allora prima di iniziare volevo dirvi che ho realizzato questo repository e lo trovate trovate un link nella chat oppure lo rimetto è un link che vi serve solamente per avere così un riferimento trovate qua sia il programma che seguirò ora trovate anche qua sotto c'è un link alla presentazione questa presentazione che ora farò qui da potete trovare qua qua ci sono i miei contatti e va bene iniziamo subito con la presentazione di questo geobrick allora ho voluto chiamarlo alla scoperta delle espressioni di cugis perché come ha detto bene roberta le espressioni di cugis per alcuni potrebbe potrebbe essere ancora qualcosa di poco noto di addirittura sconosciuto conosco persone che utilizzano cugis da molti anni e mi hanno confessato che le espressioni le utilizzano in modo molto marginale anzi per non dire quasi del quasi completamente non c'è sanno che esistono ma non non sanno come utilizzarle e di conseguenza come ottenere il massimo da questo da questo strumento che a mio avviso è potentissimo allora definizione anche se non è molto completa infatti ho messo questa faccia un po dubbiosa di allora la definizione è questa qua secondo me le espressioni non sono altro che sono delle semplici o complesse funzioni che ci permettono di manipolare però questo vedetelo tra apici tra virgolette manipolare i dati di layer vettoriali una cosa molto importante è che le espressioni noi le possiamo utilizzare solo ed esclusivamente tranne rarissimi casi si possono utilizzare solamente su layer vettoriali il linguaggio che viene utilizzato per le espressioni è misto misto questa è una cosa che ho sentito dire a neal direttamente non è una cosa che ho scoperto io neal in un suo video proprio diceva proprio questo che il linguaggio delle espressioni di qg si un linguaggio misto nel senso che ci sono dei richiami di python richiami di sql richiami di altri linguaggi quindi è qualcosa che è stata studiata appositamente per qg quindi le espressioni di qg si valgono solo all'interno di qg si non possiamo utilizzare una stessa espressione di qg si in un altro software gis questo è importante da sottolineare le espressioni di qg si permettono quindi di manipolare sia dei dati di tipo alfanumerico ma soprattutto questo è un altro aspetto che pochi conoscono le espressioni di qg si permettono di manipolare anche la geometria ok all'interno del del calcolatore di campi troveremo vi farò vedere oltre 120 funzioni dedicati solo alla geometria in generale è il calcolatore di campi di qg sa oltre 300 funzioni non considerando le variabili perché se considerassero anche le variabili supereremo quasi di sicuro le 500 e 500 funzioni perché le variabili sono degli sono degli elementi che appunto dipendono anche dal contesto e di conseguenza in alcuni casi ce ne sono 20 in altri contesti ne possiamo trovare 50 e così via andiamo avanti allora nell'espressione di qg dove possiamo utilizzarle allora io in questa slide qua ho messo il non so se si vede bene ho messo questo coltellino svizzero per far capire già fin da subito che le espressioni di qg si possono utilizzare ovunque per esempio si possono utilizzare nella tabella degli attributi quindi possiamo modificare tutti gli elementi che sono presenti nella tabella attributi poi lo vedremo con qualche esempio possiamo utilizzare espressioni per tematizzare e quando io parlo di espressioni non dico una semplice funzione ma anche funzioni complesse funzioni annidate funzioni che permettono di chiamare altri layer sempre layer di tipo vettoriali oltre a tematizzare possiamo anche etichettare quindi l'etichettatura tramite espressione si può fare lo vedremo la selezione la selezione tramite espressione di una potenza incredibile e penso che inizierò con questo esempio appena finisco questa presentazione vi farò vedere come fare delle selezioni diciamo così semplici ma di molto potenti le espressioni possiamo utilizzare nel compositore di stampe quindi anche negli atlanti nei report negli strumenti di processi possiamo utilizzare le espressioni nei moduli di inserimento date nei widget ci sono le espressioni nelle azioni se vogliamo creare delle azioni possiamo all'interno di un'azione scrivere delle espressioni modellatore grafico anche qua espressioni diagrammi ci sono le espressioni nei filtri espressioni decorazioni ora vi farò vedere come fare una decorazione utilizzando le espressioni nella proprietà dei layer ci sono anche lì le espressioni le variabili in generale nelle statistiche in QGIS chi conosce QGIS c'è quello in QGIS a forma di sommatoria e lì si possono utilizzare anche le espressioni ripeto anche espressioni complesse non semplice dollaro area ok anche funzioni complesse nei suggerimenti mappa eccetera eccetera quale elenco sarebbe lunghissimo ma mi fermo qua un'altra che mi viene in mente per esempio nei plugin nei plugin si possono utilizzare anche le espressioni per esempio nel plugin di Matteo Ghetta che è il plugin che riguarda la realizzazione di grafici lì si possono utilizzare in modo e questo lo farò vedere se ce la facciamo con i tempi vi farò vedere come utilizzare l'espressione all'interno del plugin data plotly andiamo avanti le espressioni guida in linea la guida in linea che è che si trova all'interno del calcolatore di cambi che si trova sulla destra questa qua che sto evidenziando è ben fatta ed è tutta scritta in italiano è tutta tradotta scusatemi è tutta tradotta italiana in italiano e per questo voglio ringraziare i traduttori che attualmente tutte le versioni di QGIS se non erro sono tutte tutte tradotte al cento per cento e questo è un lavoro veramente ammirevole che fanno i traduttori italiani voglio aggiungere un'altra cosa che la traduzione che fanno questi ragazzi è la migliore al mondo mi permetto di dire come 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 i doppiatori italiani i doppiatori italiani sono i migliori al mondo e quindi anche i traduttori italiani sono i migliori la guida in linea è facilmente accessibile questa che vedete qua è facilmente accessibile si trova direttamente nel calcolatore di cambi vi farò vedere che con con le funzioni con semplici combinazioni di tasti la richiamati in un modo velocissimo è fondamentale usarla perché è fondamentale usarla perché nella nella guida in linea ci sono le definizioni delle funzioni questo un esempio classico che faccio sempre e questo qua dollaro area diverso di area geometria questa secondo voi è vera è sempre vera quando è vera ora questa attualmente è una risposta molto semplice se andate a leggere le definizioni di area di dollaro area e di area nella definizione se andate a leggere la definizione capirete e potete rispondere in modo istandare su questa disuguaglianza che ho scritto qua quindi le definizioni delle funzioni si trovano nella guida in linea la sintassi la trovate pure nella guida in linea trovate pure i parametri denominati poi vi dirò che cosa sono e come usarli e poi alla fine di questa guida in linea trovate degli esempi e quindi oltre alla definizione oltre la sintassi ci sono pure gli esempi però come ho scritto qua ha un unico difetto la guida in linea di QGIS e questo difetto secondo me è legato al fatto che non ci sono esempi e a livello di immagini non trovate immagini qua come in altre guide che non voglio nominare ma la presenza di immagini aiuta molto di conseguenza nel 2018 circa ma già avevo l'idea di farlo prima ho realizzato questa guida hfc QGIS che è una guida al calcolatore di campi però non ha intenzione di sostituirlo ma solamente di integrarlo perché è questa mia guida hfc QGIS che ho realizzato attualmente assieme a open data sicilia è molto ricca di di screenshot di immagini di esempi ok quindi però non dico per ogni ma molte funzioni per esempio l'azmut che cos'è l'azmut è semplice leggere una definizione ma avere il disegno un'immagine sotto aiuta molto e questo lo trovate in questa mia guida andiamo avanti e le espressioni ok questo qua è l'interfaccia del calcolatore di campi di QGIS poi lo vedremo in azione ma fondamentalmente abbiamo una più più sezione questa parte sulla destra serve per creare dei nuovi campi o nuovi campi reali oppure sotto come vedete qua dei campi virtuali sulla destra invece ci permette di aggiornare i campi perché per esempio nel calcolatore di campi nella tabella degli attributi abbiamo già degli attributi dei campi che già sono popolati quindi se io volessi aggiornarlo utilizzando il calcolatore di campi devo attivare questo questa sezione qua quindi aggiorna un campi esistente qua sotto invece abbiamo l'editor vero e proprio dove noi scriviamo le espressioni questa parte centrale che è quella dei gruppi qua ci sono tutte le funzioni qua naturalmente sono raggruppate per gruppi se vogliamo cercare se volessimo cercare un'espressione basta scriverla qua dove c'è scritto cerca e istantaneamente QGIS fa un filtro delle delle funzioni sulla destra qua come ho detto poco fa c'è la guida e sotto questa parte qua questa si attiva solo se selezioniamo uno dei campi che si trova appunto in questo gruppo campi e valori qua ci fa praticamente vedere i valori che sono presenti all'interno dei campi sotto qua abbiamo l'anteprima l'anteprima è molto importante guardarla osservarla perché ci dà delle indicazioni se l'espressione è scritta bene se l'espressione ha un output e così via poi la vedremo in azione questa qua la sintassi allora qua ho scritto perché questo qua per chi è alle prime armi deve subito capire che la guida in linea deve essere sempre consultata sempre io tuttora dopo anni la consulto sempre anche perché è come dire faccio anche da facciamo anche molto testing che faccio molto diciamo così segnalazioni di come dire di traduzioni o non diciamo così o non ancora fatte oppure da da migliorare e così via ma in generale vi consiglio sempre di leggere la guida come ho detto poco fa anche perché la sintassi per alcuni gruppi di funzione è fondamentale perché nel calcolatore di cambio noi abbiamo sia delle funzioni senza argomenti quindi funzioni senza argomenti sono per esempio doloro area doloro perimetro questi qua non hanno bisogno di argomenti di conseguenza non c'è molta sintassi da conoscere però queste funzioni sono poche saranno forse a 10 non c'è arrivano 10 su oltre 300 mentre la stragrande maggioranza delle espressioni delle funzioni necessitano di argomenti e di conseguenza occorre occorre seguire la sintassi la sintassi ripeto la trovate a fianco nella nell'elpe per esempio area troverete sono tra parentesi all'interno va messa qualcosa ok questo questa cosa che va messo vengono chiamate argomenti e la successione degli argomenti viene dettata appunto dalla sintassi e paramagi dominati va bene andiamo avanti quindi ricordatevi dovete sempre leggere la guida come come utilizzarle qua un rapido un rapido esempio di come si utilizzano non so se voi avete un nome campo per esempio se prendiamo le regioni italiane o su questo facciamo un esempio è pratico ci sono c'è un campo dove ci sono i nomi e delle regioni non so piemonte sicilia sardegna e così via se a me serve per un motivo o un altro di scrivere questi nomi tutto in maiuscolo come faccio col calcolatore di campi vado a prendere questa funzione e quindi basta scrivere la funzione e poi tra parentesi il nome del campo questo ci permette di scrivere tutto il testo in maiuscolo oppure non so se volessi o una geometria parendo sempre nell'esempio delle regioni e volessi tracciare il baricentro di ogni regione l'espressione questa centroidi geometri e questo traccia un punto nel baricentro oppure se volessi non so questo già come vedete diventano sempre più complesse le funzioni ok questa è già una funzione di funzioni questa da questa io calcolo il centroide con la x davanti tiro fuori solamente il valore della x quindi la coordinata ok col calcolatore di campi posso richiamare altri layer questa è una cosa molto importante che pochissimi conosce conoscono e di conseguenza utilizzano non sono solo questi ce ne sono altre e che ci permettono di richiamare all'interno del calcolatore di campi altri layer che sono naturalmente presenti nella top che naturalmente con le espressioni posso creare dei nuovi campi e quindi popolarli posso aggiornarli come ho detto poco fa posso addirittura modificare il campo geometri sul campo gioco voglio aggiungere un'altra un'altra considerazione nella tabella degli attributi di layer di tipo vettoriali l'attributo perché la geometria è sempre un attributo un attributo particolare ma sempre attributo è ok non è presente questa è una scelta che hanno fatto gli sviluppatori di QGIS e hanno deciso di non far vedere aprendo la tabella attributi la geometria però c'è ed è ripeto un attributo come gli altri particolare ma è sempre un attributo di conseguenza lo possiamo modificare come come se fosse un attributo come tanti altri attributi però ci sono dei primiti però è sempre modificabile con le espressioni è possibile anche popolare i campi virtuali i campi virtuali sono dei campi appunto virtuali non sono fisici cioè non vanno a modificare la tabella attributi ma ci danno la possibilità di aggiungere dei campi e questi campi sono all'interno dei campi all'interno delle singole celle ci sono delle espressioni quindi ogni volta come accade in excel per esempio in excel chi utilizza excel sa che all'interno delle celle è possibile mettere delle espressioni quindi ogni volta viene aggiornato QGIS o quel layer quella espressione viene nuovamente valutata quindi sono interessanti appunto per questo che contengono dell'espressione non dati è tutto virtuale altra cosa importante sui campi virtuali è che oltre a non modificare la tabella attributi sono vengono memorizzate nel progetto e non nel layer andiamo avanti qua per chi vuole per chi già utilizza QGIS e le espressioni ho scritto sei esempi per farvi capire un attimino l'importanza della conoscenza di questo strumento questa è quella classica che faccio sempre quindi questo quadro loro area perché diversa perché c'è questa disequazione perché sono diversi in generale oppure quest'altra dollaro x è uguale a x geometri in che condizioni questi sono uguali oppure questa espressione quadro scritto qua uno più venti secondo voi fa 21 fa 120 questa qua oppure dollori di quante che coincide con romper oppure non so quest'altra è vera se vera quando è vera oppure quest'altra non so atas geometri è sempre disponibile bene detto ciò ora direi di passare a QGIS andiamo direttamente in QGIS e andiamo a utilizzare allora io sto utilizzando l'ultimissima versione che è la 3.20 informazioni ed è qua 3.20 da questa versione due parole su questa nuova versione da questa versione troverete nello splash screen vediamo se ce l'ho qua non ce l'ho qua presente trovate scritto sopra rc rc sta ad indicare che la release candidate cioè è una release che diciamo così è appena uscita e di conseguenza ci possono ancora essere dei bug ok quindi ora QGIS siccome si sta maturando molto ci tiene anche questi piccoli particolari e quindi avvisa che essendo questa la primissima versione o meglio la prima edizione non so come dire della 3.20 questa qua può essere può contenere in sé ancora dei bug quindi in generale se volete lavorare se dovete fare dei lavori non vi consiglio di iniziare subito con la 3.20 ma utilizzata 3.16 quella è stabile e quindi ci sono molti meno bug anzi in teoria non ce ne dovrebbero essere allora per utilizzare vedete qua il calcatore di cambio è questo qua sopra questo è il pallottiere vedete qua è disattivato in questo caso è disattivato per due motivi prima perché ancora non ho creato nessun progetto e secondo perché non ho caricato qua nessun layer di tipo vettoriale ok qua se io caricassi un layer di tipo vediamo se ce l'ho qua raster se io caricassi un raster ecco qua vedete sempre spento perché non posso lavorare con il calcolatore di cambi su un su un raster però ve lo dico lo posso richiamare posso richiamare nel calcolatore raster un layer di tipo raster purtroppo non c'è il tempo per affrontare anche questi casi però chiudo facciamo ora carico un layer di tipo vettoriale un geo package regioni ora io appena lo carico ecco qua vedete qua ora è attivato ne carico due per farvi capire un'altra cosa del calcolatore di campi il calcolatore di campi come molte cose che avvengono in QGIS viene è attivato diciamo così relativamente al layer selezionato cosa voglio dire se io in questo caso seleziono regioni e pigio sul pallottoliere questo qua apri questo calcolatore di campi che ora si apre questo è relativo a questo layer ok tant'è che viene scritto qua sopra vedete qua regioni 00 eccetera quindi tutto ciò che faccio qua è relativo a questo layer ok se questo lo chiudo seleziono l'altro e il riapro il calcolatore di campi vedete qua sotto è relativo a questo layer tant'è che un'altra ulteriore conferma se andate qua che ci sono questo qua è la parte dei gruppi di funzioni se andate su campi e valori questi campi sono relativi a questo layer che so che ho aperto che ho selezionato all'inizio detto ciò vi faccio vedere un attimino qua nell'area dell'editor cosa è possibile fare qua dentro qua dentro io posso anche scrivere dei commenti cosa significa scrivere dei commenti non so posso commentare e scrivere uso il field calc come calcolatrice ok questo è un commento naturalmente i commenti devono sempre iniziare se è una commenta se è un commento sul su una nuova riga su questa qua devo iniziare con questo quindi qui c'è questa barra e l'asterisco che deve terminare con l'asterisco e la barra ora qua sotto posso utilizzare questo come una semplice calcolatrice posso voglio dire 2 più 3 2 più 3 vedete qua sotto nell'anteprima c5 ok oppure per 10 segue le stesse naturalmente regole della matematica quindi 2 più 3 per 10 fa 3 per 10 fa 30 più 2 fa 32 naturalmente questo qua sono dei semplici numeri ma io qua potrei invece di utilizzare dei semplici numeri utilizzare degli attributi gli attributi della nostra del nostro layer quindi io posso andare qua non so prendere feed per raggiungere uno dei campi qua nell'editor si seleziona e si fa a doppio clic qua una cosa che hanno aggiunto da poco vedete qua c'è l'iconcina a fianco questo ci fa capire e la tipologia del dato cioè feed di tipo integer vedete 1 2 e 3 sono numeri interi oppure se andate su den prov questo contiene delle stringhe quindi vedete c'è scritto abc oppure questo qua che riguarda la lunghezza il perimetro l'area questi sono i dati con la virgola e quindi c'è 1.2 ok quindi già da qua potete capire il tipo di dato che c'è all'interno quindi stavo dicendo feed in questo caso contiene dei dati questo è un campo i campi ricordatevi sempre vanno sempre tra doppie apici questo è una regola fondamentale almeno per chi inizia vanno sempre tra apici perché lo dico questo qualcuno di voi può dire vabbè basta io faccio doppio clic qua e l'uoggi solo aggiunge da sé è vero però vi garantisco che non appena prendete confidenza con questo strumento sarete tentato a scrivere tutto manualmente ok quindi non perderete tempo ad andare a cercare qual è il campo come si chiama direttamente lo scriverete code reg ok quindi dovete ricordare che se per code reg per voi è un campo è un attributo ricordatevi che deve essere tra apici ok quindi posso fare per esempio feed feed è un tipo numerico se faccio per due ogni valore del feed lo moltiplica per due una cosa importantissima del calcolatore di campi questo faccio vedere aprendo anche la tabella attributi questa tabella attributi e posso accedere al calcolatore pigiando anche qua o da qua quella sulla 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 gui generale oppure direttamente sul calcolare sulla tabella attributi qua una cosa importante del calcolatore è che ogni espressione che io scrivo qua dentro questo lo dovete per chi è neofita e lo dovete scrivere con il fuoco non so dove da qualche parte tutto ciò che scrivete qua dentro non so scrivo dollaro area dollaro area è una una funzione che è appunto calcola l'area questa funzione che ho scritto qua e qualsiasi altra io scrivessi qua viene valutata nella tabella attributi riga per riga questo è di fondamentale importanza se riuscite a capire questo avete già il 50 per cento della come dire della sette già a un buon punto diciamo così quindi questa area valut viene valutata questa espressione non voglio legare a questa ma in generale questa espressione che scrivo qua dentro viene valutata riga per riga sempre qualsiasi cosa io scrivo qua anche se scrivesse funzione di aggregazione o non so funzioni che richiamano altri layer queste espressioni scritte qua vengono valutate sempre riga per riga ok questo è anche uno dei motivi per cui il calcolatore di campi è in alcuni casi molto lento perché dovete immaginare di avere non so diecimila righe se mettete qua dentro una funzione complessa dove soprattutto se mettete anche delle funzioni di aggregazione le funzioni come vengono valutate riga per riga immaginatevi se avete non so diecimila righe quella espressione deve essere valutata diecimila volte ok quindi questo è anche il motivo perché ripeto il calcolatore di campi in alcuni casi è veramente lento quindi stavo dicendo che questo viene valutato riga per riga vi faccio subito un esempio io qua voglio aggiungere la tabella attributi quindi siamo qua sulle province e voglio aggiungere un campo che chiamo ora area o superficie area l'area naturalmente di tipo decimale ok metto aria qua vedete qua già mi dà l'anteprima ma questa anteprima qua secondo voi è legata a quale riga se qua siamo sulle province quindi le province sono 107 questo numero quest'area quest'anteprima è relativa a quale riga in generale è relativa sempre alla prima riga però da poco hanno aggiunto questa parte qua vedete qua dove c'è scritto elemento io da qua posso scorrere posso anche definire quale elemento vedere qua però io qua posso scorrere vedete qua che varia quindi se questa è la prima riga questo valore questo sarebbe la seconda la terza riga quarta riga e così via ok naturalmente area di invito andarla a leggere la definizione e vedete sono qua in queste condizioni qua per vedere la guida qua io scrivo qua area area qua c'è la guida in linea vedete qua come dicevo poco fa c'è una bella definizione qua c'è la sintassi c'è l'esempio ma non c'è una figura qua vabbè in questo caso non servirebbe molto ma per altre funzioni è importante ora quest'area qua e non vi leggo la definizione così chi vuole se la va a leggere quest'area qua restituisce un valore che è legato al sistema di riferimento del progetto ricordatevi questo progetto quindi se il progetto o meglio in generale dipende dalle configurazioni del progetto ok praticamente cosa voglio dirvi che se il layer questo qua province avesse un sistema invece che proiettato un sistema geografico accuggiscono gliene frega nulla se io qua ho adottato un sistema proiettato lui mi c'è mi restituisce un'area su quel sistema cioè cosa voglio dire il 32 632 è un sistema proiettato e l'unità di misura sono metri quindi se io scrivo qua do loro area lui mi restituisce una superficie in metri quadrati ok quindi questo numero che vedete qua questo numero enorme sono metri quadrati di queste se io qua invece di lavorare con metri quadrati volessi non so ettari basta fare diviso 10.000 e quindi questo risultato sarebbe in ettari non so invece di ettari voglio in chilometri quadrati diviso un milione ok quindi vedete come come semplice dal calcatore di campi ottenere questi risultati molto veloci fatemi seguire però un attimino dove sono qua fatemi seguire il programma perché non vorrei saltare alcune voci dagli allora tabella attributi ok vi faccio vedere un attivino qualche esempio sulla tabella attributi allora questa quella tabella attributi qua la posso staccare ora qua sono nella tabella attributi non so chi di voi lo sa ma io posso utilizzare il calcolatore di cambio all'interno della tabella attributi stessa cosa voglio dire se questa tabella attributi se vado in editing cioè se mi porto in modifica vedete qua questa matritina l'attivo vedete qua compare questa barra qua questa barra qua è molto utile queste venne chiamata appunto calcolatore dei campi rapido io da qua posso fare delle rapide operazioni c'ho tutta la potenza delle espressioni del calcolatore perché basta che clicco sulla epson e accedo sempre vedete qua cedo sempre nel costruttore di espressioni però qua se voglio fare una cosa molto semplice vi faccio vedere vedete qua questo campo che contiene tutti i nomi delle province si ora qua per un motivo o un altro voglio che tutti i nomi e li voglio tutti in maiuscolo vedete qua sono preso in torino c'è solamente la prima lettera maiuscola io voglio tutto maiuscolo qua lo posso fare molto velocemente da qua quindi vado qua che c'è l'elenco di tutti i campi questo si chiama den uts den uts quindi queste den uts quindi in questo momento gli sto dicendo di lavorare solo su questa colonna e da qua gli devo dire che questo lo voglio tutto maiuscolo la funzione che si occupa di questo si chiama a per non so se in inglese ho detto bene e qua tra parentesi vi devo dire quale campo perché un attimino scrivo den uts ricordati sempre essendo un campo ammesso tra doppi apici quindi il risultato l'output cielo su questo però io qua teoricamente qua invece di questo di questo campo potevo dirgli un altro campo non so questo oppure questo questo ma siccome voglio rimanere solo su den uts e modificare solo questo utilizzando gli stessi valori basta che faccio così quindi vedete qua a per den uts altra cosa prima di avviare e la modifica in questo momento qua non ho selezionato nessuna riga ok quindi se io qua pigiassi su aggiorna tutto lui aggiornerebbe tutto ok ma se per un motivo di un altro voglio solamente una selezione quindi voglio solamente questo gruppo selezionato vedete quasi aggiunge un altro bottoncino aggiorna selezione quindi se gli dico osservate qua aggiorna vedete le uniche modifiche sono queste selezionate che come vedete sono le ha modificate tutti in maiuscolo non so per un motivo di un altro cambio idea le voglio su tutte clicco su questo aggiorna tutto che è successo dove finita dentro qua tutto maiuscolo ok questo è più o meno come si si può lavorare con il calcolatore di cambi rapido sulla tabella attributi ma passiamo avanti questo qua fate ben nullare la modifica la seconda cosa che vi faccio vedere molto interessante la tematizzazione io posso tematizzare utilizzando le espressioni solitamente come si fa per tematizzare utilizziamo solo un layer questo quale regioni io vado sullo stile qua e ho tutte queste tutti questi metodi non so vado su categorizzato e vado a scegliere non so den reg e classifico ok quindi in questo caso sto utilizzando un normale campo gli sto dicendo classifica categorizzano in funzione a questo campo ma ripeto per un motivo che non lo so per adesso stiamo indagando le potenzialità del calcolatore io quando nullo tutto simpolo semplice io sono qua e per un motivo che disconosco però io voglio tematizzarlo da qua da simpolo da simpolo singolo e da qua se vado sul riempimento vedete qua tutte queste iconcini vedete qua a fianco richiamano queste qua i valori che sono presenti nella tabella attributi tant'è che si chiama queste iconcine la famosa iconcine della sovrascrittura definita dei dati quindi io in questo caso qua nel colore se io vado qua e vado su modifica io qua posso scrivere un'espressione semplice o complessa e qg mi restituisce un colore per ogni naturalmente il colore è in funzione dell'output delle espressioni che gli scrivo qua vi faccio un esempio per capire io qua sono entrato nel nel costruttore a partire da questo cioè del colore ma questo lo posso fare sullo stile sul colore del tratto sul spessore stridera vedete queste iconcine ovunque quindi su ognuno di questo posso modificare ed agire tramite un'espressione qua sono nel colore e nel colore qua qua sotto vedete c'è questa parte qua che mi dà un suggerimento e mi dice per farvi capire qua lui mi dice che l'output delle espressioni che scrivo qua dentro deve essere di tipo stringa ok in questo formato rgb a ok in questo formato qua oppure addirittura tramite il nome di un colore vi faccio un esempio così lo capite io qua posso scrivere se per esempio vado a prendere un campo non so den reg den reg contiene il nome dei nomi di delle regioni quindi vado qua aggiungo den reg e gli dico se den reg inizia per esempio ai lai che inizia per vediamo per c prima degli sto dicendo se il nome della regione inizia ai like tra pari tra apici semplici metto c e poi metto il per cento il per cento significa qualsiasi carattere dopo la prima io ho detto la prima deve essere c tutto ciò che esegue non mi interessa e questo si scrive attraverso la in questo per cento quindi qua gli sto dicendo se il nome della provincia il nome della regione inizia con la c cosa deve fare se inizia con la c vi dico coloro rosso quindi red se non è vero quindi se la prima lettera non non è ci quindi è diverso colora lo verde ok quindi vai ecco qua e lui mi dice guarda rosso c'è con la c inizia la calabria e campania tutto il resto non c'è la c quindi come vedete ho tematizzato con un simbolo semplice utilizzando un'espressione mi fermo qua perché altrimenti ci sarebbero un altro milione di esempi da fare passiamo ora all'etichettatura come posso etichettare vedete qua etichettatura come posso etichettare utilizzando questo qua attraverso delle espressioni allora sono qua etichetta allora in questo momento appena io attivo l'etichetta cugis va a prendere un campo di tipo testuale il primo che incontra quindi e code den den reg questo era denominato il nome della regione ora io oltre al nome della regione un attimino fatemi mettere uno dove qua un bafferino così si vede meglio ecco qua carattere carattere l'augmento un attimino così si vede meglio ecco qua ora voglio scrivere qua sotto a toscana oppure sotto sicilia cioè per ogni per ogni regione voglio scritto sotto quindi in un nuovo rigo la stesso nome però scritto tutti in maiuscolo quindi ottimo rigo il nome normale e sotto tutti in maiuscolo come si fa si fa attraverso le espressioni quindi vado qua dentro nella epson den reg contiene tutti i nomi delle regioni infatti vedo tutti i nomi delle regioni per ora sotto voglio lo stesso tutto maiuscolo come come si fa come come gli dico a cugis di andare in una nuova riga lo posso dire in questo modo si utilizzano questi operatori che sono qua sotto e soprattutto queste doppie linee verticali si chiamano pipe quindi doppio pipe doppio pipe serve per fare una congiunzione ok poi c'è questo vedete qua questo questa barra con n questo qua è tipico di python e mi permette di mandare a capo quindi nuova linea quindi in questo caso così poi qua metto un aumento il pipe doppio pipe quindi in questo modo ci sto dicendo scrivi il nome della regione uniscilo a un'andata a capo questo significa vai a capo ok e qua metti e a per che la funzione ci permette di scrivere tutti in maiuscolo se vi ricordate il nome lo scrivete a mano altrimenti andate su cambi e valori che andate a prendere den reg doppio clic lo aggiunge chiudete ok e qua come vedete se come vedete se ce la faccio gis ecco qua vedete è scritto primo rigo sicilia scritto normalmente sotto scritto in maiuscolo e qua potete aggiungere un'altra riga e scrivete non solo la superficie un'altra riga e scrivete non solo il perimetro e così via quindi come vedete le possibilità sono infinite andiamo qua selezioni questo qua della selezione vi faccio vedere ora qualcosa che di incredibile almeno a mio avviso spegniamo questo utilizziamo le province allora questa cosa la dico sempre ma la domanda che vi faccio una domanda poi vi rispondo tramite questo 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 esercizio noi abbiamo in questo caso sono le province e se io vi facesse la domanda qual è la provincia più estesa o la meno estesa ok e di conseguenza voglio anche selezionata qua sono le delle province sono 107 ora noi più o meno sappiamo qual è la provincia più estesa ma dovete un attimino pensare di avere altri poligoni altre situazioni questo e farvi capire lo strumento ora se io qua volessi selezionare poi alla provincia più estesa come faccio si utilizzano gli strumenti di selezione per espressione ecco qua come vedete entriamo sempre qua ovunque ci sono le espressioni ora con un'altra cosa che dovete perdonatemi se mi permetto questa convidenza e dovete scrivere con il fuoco da qualc'altra altra parte è che nelle selezioni nella selezione e qui tutto ciò che scrivete qua dentro deve avere un output di tipo booleano cosa significa significa che le espressioni che scrivete qua mi deve restituire sempre o vero o falso o uno o zero ok questo è fondamentale altrimenti se capite anche questo è un altro passettino avanti per per dominare questo strumento ora qua la domanda era qual è la provincia più estesa e la voglio selezionata e allora io qua devo scrivere siccome parlo di estensioni superficie non possono utilizzare l'area ok e quindi qua devo iniziare a scrivere do loro area e l'area che voglio selezionata ok però in questo caso quasi lo scrivesse solamente area il valore che ottengono e tipo booleano è un numero vero e proprio quindi io qua ottenere un booleano devono scrivere uguale che cosa uguale ottenere un booleano credo questo deve essere uguale a che cosa ok allora qua io devo il ragionamento è il seguente ho tutte queste 107 di queste 107 siccome la domanda è qual è quello più esteso in sostanza devo fare un'aggregazione di superfici e di questa aggregazione devo tirare fuori quello più esteso ok la funzione che fa questo si chiama maximum eccolo qua maximum ma maximum di cosa sempre dell'area chiudi non risponde vedi già perché qg tutto ciò che scriviamo viene sempre è istantaneamente valutato quindi alcune volte ci sta un attimino per valutarla ora questa espressione vedete qua l'autot mi da zero mi da zero cosa significa ricordate come ho detto all'inizio che qualsiasi espressione viene valutata riga per riga quindi significa che nella prima riga questo uguaglianza è falsa quindi è vero quindi questa qua restituirà uno quindi vera solo in corrispondenza della provincia più estesa quindi se io da qua ora faccio seleziona ci starà un attimino perché ripeto sono funzioni di aggregazione deve ripetere 107 volte questa espressione e 107 volte deve fare questa aggregazione e poi siccome siamo anche connessi e poi anche il mio pc vecchiotto ci sono una serie di 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 problemi secondari che lo rallenta ecco qua qua mi dice seleziona vedete qua per un secondo ecco era comparso e perché non me lo seleziona andiamo a tabella attributi deve essere selezionato almeno la devo ripeterlo forse ho cliccato perché appena si clicca si toglie la selezione fatemola ripetere per ripetere una una funzione l'ultima funzione o le ultime venti se scendete sotto c'è recente che trovate l'ultima doppio clic e viene aggiunto ci sto un attimino perché prima di aggiungere la controlla quindi seleziona se c'erano due aperti ora come dovrebbe comparire selezionate numero vedete qua selezionate un elemento quindi devo stare attenta a non cliccare fuori perché altrimenti mi toglie la selezione eccolo qua quindi sassari e la provincia più estesa d'italia ok altra cosa successiva questo è semplice si potrebbe fare in un altro modo ma ora vi faccio vedere un altro piccolo esempio invece di selezionare la provincia più estesa di tutta italia domanda leggermente più complicata selezionare le province più estese ma per ogni regione cioè per la sicilia qual è quella più estesa per la sardegna qual è quella più estesa e così via e questo si fa sempre tramite l'espressione quindi da qua vado a riprendere la funzione di prima recente questa qua l'unica cosa da cambiare è che quando lui va ad aggregare ecco qua allora vi faccio vedere un'altra cosa se io volesse richiamare in questo istante a definizione a guida per questa funzione maximum che basta tenere premuto control e clicco sopra qua vedete subito mi richiama la guida ok e quindi mi dice che la funzione maximum restituisce il valore massimo aggregato da un campo o espressione questa è la sintassi quindi maximum maximum vuole come argomento obbligatorio perché in questo caso vedete ci sono tra parentesi quadre come scritto qua indica componenti opzionali quindi in questo caso a tre argomenti ma di questi tre solamente il primo è obbligatorio gli altri due non sono obbligatori però se voglio fare delle analisi un po più delicate più come in questo caso la domanda è selezionare le province più estese per ogni provincia devo utilizzare il secondo ti devo dire di raggruppare quindi qua faccio virgola utilizzi i parametri denominati cosa sono i parametri denominati praticamente i parametri denominati significa che all'inizio del del mio argomento devo scrivere il nome vedete qua expression oppure group by quindi io so qua scrivo group ai due punti uguale questo va sempre scritto e già già questa è la nuova nuovissima già già un po di baghetti lani questa nuova group non me lo scrive non me lo scrive e dagli e perché gro non va altro che votare 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 questo è forse qualcosa già da segnalare giulio mamma mia vedete qua e già è mica possiamo fare così per ogni lettera group non me lo scrive niente facciamo una cosa fatemi chiudere questa che è l'ultima e vado ad aprire l'tr ma che ore si sono fatte perché ho perso 9 mezza cos'è sto avviso qua nulla scusate per questo imprevisto ma volevo utilizzare la nuova versione ma tanto che salvatore riavvi qg se qualcuno ha già qualche non so qualche domanda qualche curiosità apritevi pure il microfono scrivete in chat come come preferite ecco e ci metto un po io volendo salvatore una domanda già ce l'avrei che è un po la mia domanda diritto nel senso che è un po la stessa domanda che avevo fatto anche a matteo ghetta quando aveva fatto il geobreak su sugli script paico gis ma se io iniziassi a collezionare una sorta di libreria personale di espressioni e simili esiste un posto tra virgolette ufficiale su cui condividere queste espressioni c'è una specie mi viene in mente di plug in resource sharing ma per le espressioni del calcolatore sì sì hai detto bene questo plugin non sono sicuro al cento per cento ma questo plugin resource sharing che già esiste già viene utilizzato per condividere molte risorse di qg come non solo tematizzazioni oppure non so c'è molte cose possibili condividere con questo plugin e se non erro è possibile anche condividere le espressioni di cui gis ora se si avvia il 3 16 vi faccio vedere innanzitutto come come salvare delle espressioni personalizzate le espressioni personalizzate di qg se vengono salvate a livello di a livello di profilo quindi se per ogni profilo potete avere delle funzioni personalizzate cioè cosa voglio dire se utilizzate un profilo di default tutte le espressioni vengono salvate in quel profilo ma se cambiaste profilo quelle espressioni non le trovate ok quindi ogni volta dovete ricaricarvi le espressioni le espressioni di cui gis vengono salvate se non erro in una calte in una cartella mi sembra in un linguaggio xml forse perché vi volevo dire un'altra cosa perché ci sta tanto a caricare qg se non è che qui gis e lento è legato al file plugin è già qualche minuto che stiamo spreco proprio pieni se noi abbiamo installato molti plugin e qg siccome a questa mania del controllo va a controllare tutti i plugin naturalmente siccome questo controllo fa online in questo caso siccome io sono connesso e la banda è si è abbassata notevolmente ora invece di starci un minuto a caricare ci starà più più minuti quindi il problema è legato al numero di plugin che installate e naturalmente c'è la possibilità di avviare qgis senza senza plugin basta aggiungere una piccola stringa alla fine del del link e non carichi plugin però naturalmente se se lo avviate senza plugin non trovate alcuni plugin fondamentali di qgis per esempio il processing è un plugin è un plugin è un plugin che si trova nel corio di qgis però è sempre un plugin quindi se avviate qgis senza plugin non vi trovate il processing il processing è questa cosa vi dovete perdonare ma ci sta bastando troppo tempo detto ciò non so c'è qualche qualche domanda qualcuno che non siate timidi perché roberta non mangia nessuno no no assolutamente anzi questi incontri nascono proprio con l'idea poi di renderli anche un momento proprio più più che un momento didattico anche di condivisione proprio di di esperienze per cui insomma allora allora faccio io come il professore che chiamo allora antonio fammi una domanda antonio soriano dai che ti conosco bene salvatore buongiorno ciao antonio aspetta mi faccio anche vedere così un attimo solo ho sbagliato bussante mi vedete ciao salvatore sì sì ciao ciao antonio in maniera cautelativa diciamo su questo su questi incontri perché il fatto di far lavorare sui campi anch'io ci lavoro un bel po soprattutto per fare delle modifiche eccetera allora volevo capire un attimo le potenzialità del canale raccolatore di campi chi meglio di te insomma con l'esperienza e tutti i test che ha fatto poteva esprimere anche perché sono degli spunti d'inizio perché chiaramente ognuno ha problematiche diverse che deve affrontare è molto diciamo interessante proprio questa libertà di poter creare questi questi etichetti campi anche la vestizione sono sono aspetti che facilitano molto la domanda adesso che rifaccio è questa poi per materializzare i risultati all'interno della della tabella degli attributi conviene sempre fare un export o sono diciamo campi virtuali come la volta scorsa mi pare di aver capito sì ti ho sentito ma perdonami ma tu mi hai chiesto i campi virtuali sì dico quando facciamo una modifica creiamo un campo virtuale come risultato di un'operazione basata su n campi questo risultato rimane nel progetto oppure per poterlo poi esportare legarlo ai dati tipo non so un geopackage un altro tipo diciamo di file possono essere diciamo esportati allora i cambi virtuali come ho detto all'inizio sono lo stesso termine di virtuale nel senso che sono memorizzate all'interno del progetto di qui gis ti faccio un esempio siamo qua si le 20 regioni io ora qua aggiungo un campo di tipo virtuale allora qua vedi qua invece di creare un nuovo campo si da qua io creerei un campo fisico reale sto modificando la tabella attributi se io non la voglio modificare quindi vado qua sotto crea campo virtuale e qua non solo lo chiamo area area però in ettari questa volta ok tipo decimale io qua sotto vado a scrivere dollaro area diviso 10.000 perché io voglio l'area in ettari ok quindi è un campo virtuale area e in ettari ok ti dico che e lui raggiunge vedi qua l'ultimo l'ho aggiunto area non so se si vede questo qua ora come vedi qua io non sono andato né in edit né in modifica non c'è salvo non c'è nulla ok ora questo cosa significa che questo campo è virtuale nel senso che io in questo momento lo sto vedendo però se io in questo istante preciso chiudessi il progetto e riaprissi lo stesso layer io questo non lo trovo più perché questo campo è in memoria è virtuale ok all'interno io vedo questo numero ma all'interno c'è un'espressione ti faccio vedere se vado su proprietà del layer doppio clic e accedo alle proprietà del layer vado su campi vedi qua contiene una espressione che area diviso 10.000 se qua non so in futuro la volessi cambiare questa espressione accedo qua ok e lo posso cambiare l'espressione ok quindi questo come vedete l'enorme potenzialità quindi se io questo qua ora se all'inizio era virtuale però poi cambi idea e dico ma no a me serve che sia che sia reale sia fisico e allora poi lo aggiungo quindi vado qua e gli posso studiare da qua di naturalmente e invece di spuntare qua lo lascio solo qua e ricrevo di nuovo area in ettari e gli scrivo qua normalmente l'espressione però questa volta scusate e questa volta rimane in modo permanente oppure altro metodo è quello di esportare in questo fase qua in questa fase qua scusami se io voglio che rimanca questo campo in modo permanente lo devo salvare cioè dove dove esportare scusa non salvare devo esportare il layer se poi gli dico salva e poi lo salvo in qualsiasi formato voglio questo campo viene salvato viene automaticamente trasformato in in reale oppure posso salvare il progetto salvo il progetto e ogni qual volta apro quel progetto ci sarà questo layer e in questo layer c'è il campo virtuale non so se sono stato chiaro perfetto perfetto diciamo che il campo virtuale serve anche per fare un primo test su ciò che noi vogliamo e poi successivamente decidiamo se legarlo direttamente all'originale oppure come io esporto sempre proprio per non modificare l'originale talvolta almeno in archeggisto succedeva questo e capitavano dei casini che non ti dico lavorava direttamente salvatore chiedono se puoi far rivedere un attimo al volo come l'espressione per colorare diciamo per categorizzare i poligoni da da direi dagli attributi da dalla simbologia del layer e da qua da qua utilizzando il metodo simpolo singolo questo qua noi abbiamo tutto un unico colore se io volesse applicare dei colori diversi non devo andare non devo stare sul riempimento ma sul riempimento semplice quello sotto quello sotto mi attiva vedete qua una serie di elementi che posso modificare quasi voglio modificare il colore entro qua in questa etichettina qua in questa iconcina vado su modifica e qua posso con fatto poco fa aggiungere quell'espressione e dovrei avere qua questa qua però questo quello quello era denr e questo avevo fatto sulle regioni quindi qua devo cambiare un attimino invece di denr e che ci metto proprio dove qua cambia i valori il nome sta su denr e questo qua trenno che ecco qua questo qua chiedevate no quindi come vedi qualcuno semplice espressione rimanendo sempre con il simpolo singolo riesco a tematizzare a categorizzare grazie quello voglio un attimino un attimino rispondere a quella domanda che mi hai fatto tu roberta se qua accediamo sulla calcolatore di campi tra i vari campi che ci serve ai gruppi c'è il gruppo questo qua espressione utente qua vedete quanto di quante espressioni sono tutte espressioni che ho creato io guardate quando ce ne sono non se ne prendo una decorazione questa acqua doppio clic e ci contiene praticamente un'espressione all'interno questa qua e con queste iconcine che sono qua servono a questo servono a memorizzare oppure ad esportare se io faccio un esempio tutte queste espressioni che ho creato io se le volessi condividere con un amico io vado in questo bottoncino qua vedete esporta e le esporto tutte è un file questo file lo passo un amico mio l'amico poi e utilizza l'altro iconcina importa quando gli diciamo importa lui mi dice qual è il file ok selezione il file e poi mi ritrovo qua in espressione utente tutte le espressioni e credo che questo file che lui si crea quando esporto sia possibile metterlo in quel plugin che parlavamo poco fa il plugin di plugin resource sharing ottimo perfetto questo è molto secondo me trovo che sia molto utile avere un posto appunto su cui condividere perché a volte uno magari si spacca la testa per creare un'espressione allora quel punto poterla mettere anche poi insomma a disposizione di altri quantomeno uno fa fatica ma la risparmia gli altri nella speranza che poi un giorno magari lui stesso si risparmi della fatica pescando da altro guardate qualche espressione enorme che c'è un attimino guardate che espressione enorme che c'è qua questa è memorizzata questa espressione l'ha realizzata un ragazzo che ci sta seguendo che è valerio guardate che c'è qua che complessa però questa qua ci permette di tematizzare di utilizzare praticamente sostituisci i caratteri vedete qua quindi se voglio utilizzare invece del carattere classico o non si potete questo che abbiamo chiamato scrittura monoliber oppure non so stiloso che questo qua basta utilizzare questa espressione poi c'è un'altra domanda un'altra domanda di francesco barsotti che ci chiede se il campo virtuale viene ricalcolato ogni volta che apro il progetto qg se in cui è presente questo progetto menti certo certo che ci sono dei rallentamenti se quella se l'espressione che è contenuta all'interno del campo virtuale è abbastanza complessa se ci sta o si prende il suo tempo sì perché non sono ripeto perché memorizza espressioni non valori quindi un'espressione ogni qual volta noi carichiamo quel progetto rivaluta ricalcola tutto sì certo quindi ovviamente si temo che anche perché francesco chiedeva soprattutto in ottica poi pubblicazione web del dato sull'itsmap e suppongo di questo 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 non lo so se è compatibile con questa domanda che a cui non so rispondere anche io sono un po impreparata perché chiedeva anche su qfield ma personalmente nonostante anche noi usiamo tanto qfield sono quasi non ho mai provato ma sono quasi sicuro al cento per cento che funzionano lì perché qfield praticamente ha lo stesso motore di qg quindi dove dovrebbe dovrebbero funzionare sì anzi ti dico sicuro sì ok si non l'ho mai testato personalmente però si fa però ripeto al soli c'è sempre il solito discorso se sono delle funzioni dove ci sono all'interno funzioni complesse funzioni di aggregazione ci impiega ci impiega un bel po c'è rallenta tutto sì bene ci sono altre domande curiosità e purtroppo il calcolatore di campi far vedere le potenzialità in un'ora è veramente ma è stato un piccolo problemino coglierei l'occasione salvatore per poi se mai chiederti se hai voglia di fare una seconda puntata sempre magari dopo dopo la nostra pausa estiva e se vogliamo esatto fare anche un miniciclo sul calcolatore campi per noi sarebbe ovviamente una grande opportunità ecco averti nessun problema anzi troppo bello allora poi ci accordiamo e facciamo uscire un'altra puntata dedicata al calcolatore campi che effettivamente è un tema talmente ampio che che ridurlo in un'ora è veramente difficile bene se non ci sono altre domande io ovviamente ringrazio tantissimo te salvatore per aver partecipato e insomma per essere stato nostro ospite grazie mille grazie a tutti per essere stati presenti vi lascio semplicemente l'appuntamento al prossimo geobreak che sarà direi tenuto dal mio collega che presenterà un prototipo di drone per il rilievo battimetrico quindi insomma si cambierà completamente argomento però sempre diciamo sicuramente di grande interesse geobreak saranno ancora diciamo online per tutto il mese di luglio poi appunto ci sarà una breve pausa estiva e poi magari torneremo a settembre chissà magari con la seconda puntata dedicata al fil calculator insieme insieme a salvatore bene vi ringrazio ci sarà presto la presenta la registrazione online quindi ovviamente potete rivederla poi su youtube grazie a tutti grazie ancora salvatore gentilissimo grazie grazie a voi grazie a tutti i ragazzi buona giornata grazie ciao ciao